L'industria videoludica di oggi sta vivendo un momento alquanto teso, in parte dovuto alla strategia di mercato adottata da questi Publisher Manager che a malapena conoscono lo strutture in cui lavorano e ai quali frega quasi esclusivamente l'ammontare dei ricavati e delle perdite anziché la qualità dei prodotti e che stanno diventando sempre più un problema data la grandezza del business videoludico. In parte è dovuta a sviluppatori ambiziosi ma privi di esperienza, sempre supportati dai Publisher Manager sopracitati. E in parte è dovuta anche a noi, utenti, sempre alla ricerca del gioco perfetto e sempre più esigenti e critici nei confronti di qualunque progetto che attiri il nostro interesse. E giustamente da un lato, in quanto i tempi le risorse sono cambiati, ma non poi così radicalmente come alcuni affermano. Le cifre in ballo hanno più zeri e la gente coinvolta è maggiore, ma i meccanismi sono pressoché gli stessi. Come se ciò non bastasse, la next gen sta ancora vivendo la sua fase iniziale e i titoli rivoluzionari sono pochi se non nulli. Le piccole rivoluzioni, nella maggior parte dei casi, avvengono sotto i nostri occhi e sono talmente riuscite da passare quasi inosservate, vengono date per scontate. Purtroppo, anche in questo caso, i prodotti che hanno centrato il bersaglio amalgamando bene il tutto sono ancora pochi e di conseguenza lo scetticismo collettivo non fa che aumentare. E lo credo bene! Tra i giochi maggiormente sotto torchio, troviamo questo The Order 1886, titolo sviluppato da Iredi a Dawn, che senza tanti giri di parole è uscito nel peggiore dei periodi in cui un titolo del genere dovrebbe uscire. Ma non perché sia malfatto, attenzione, è un titolo sperimentale, cosa laddove molti sviluppatori hanno rinunciato a priore. È un titolo fuori dal comune e vittima delle polisi di mercato. The Order 1886 è un TPS story driven senza il multiplayer. Già questo è inusuale oggigiorno, un genere stra abusato, dove la parte single player viene sempre meno, in favore del multiplayer, per poter poi sfruttare la componente DLC all'inverosimile il cancro di ogni videogiocatore. The Order, invece, si pone un po' la vecchia scuola, in quanto incentrato esclusivamente sul single player, quindi sulla narrazione e sul coinvolgimento del giocatore nel mondo di gioco. Questo è, e sarebbe, il punto critico di ogni produzione che si rispetti, ma The Order osa ancora di più, creando un'amalgama indistinguibile tra gioco e video, un film d'azione interattivo per certi versi, un flusso che riesce magnificamente a immergere il giocatore nel mondo di gioco e nell'azione con i personaggi, e lo fa sentire vivo, reale e tangibile. È ovvio che in una produzione del genere l'abilità degli sviluppatori di sfruttare al meglio gli spunti narrativi, concettuali, e ampliarli nella giusta misura all'interno del gioco è essenziale per la totale riuscita del titolo, cosa che ahimè è riuscita solo in parte. In tal senso il motore grafico aiuta a dismisura in questo difficile compito. Non scherziamo, ragazzi. Attualmente questa è la miglior grafica che trovate su console, un netto balzo in avanti rispetto a qualunque titolo next gen attualmente sul mercato. L'impianto visivo è sublime, con una direzione artistica non innovativa di certo, ma pensata e curata intelligentemente, come dio comanda, insomma. Le scelte cromatiche e la gestione dell'illuminazione a dir poco fantastiche. Texture sempre ad alta definizione, la maggior parte delle quali sfiora al fotorealismo. Tutto questo creando un'atmosfera a dir poco eccezionale, con un tono leggermente dark, ma plausibile. Questa è la parte che tengo in considerazione di meno nella valutazione di un titolo normalmente, ma in questo caso risulta davvero importante, visto il taglio cinematografico che è stato dato al titolo. Senza la grafica che ha, The Order sarebbe stato un disastro. Il comparto tecnico non è da meno, con un frame rate sempre stabile, nonostante non ci sia mai una vera e propria bolge esagerata di effetti a schermo, ma chi ne ha bisogno? Durante l'intera sessione non ho riscontrato bug, con penetrazioni, caricamenti texture, pop-up, niente. Un impianto solidissimo, insomma, lo potete vedere da voi. Oltretutto non esistono praticamente schermate di caricamento, cosa dir poco inusuale. Tutto ciò in favore di immergere il giocatore nella storia, con i personaggi e in questo ci riesce egregiamente. Per fare questo i re di Addon hanno usato ancora di più, rallentando il ritmo durante gli intermezzi in cui non si combatte, ovvero le fasi esplorative, che comprendono anche brevi, poco sviluppate, anzi molto brevi e poco sviluppate, ma curate fasi platform, dove comunque la storia prosegue tramite i dialoghi inerenti al contesto e non fuori luogo. Si vede la volontà di mostrare al giocatore l'ambiente che lo circonda, e non di mostrare solo quanto è bella la grafica come tanti asseriscono. In ogni minuto di gioco lo vedi che l'impianto tecnico è sublime? Non diciamo cazzate, dai! Ci sono tanti generi, e molti ibridi nell'industria videoludica, e cercare di infilare con prepotenza di ordine in un genere specifico è l'errore più grosso che ogni recensore possa fare, anche se è la cosa più istintiva che venga da fare. Non vengono esaltati i punti carding di questo titolo, perché nella maggioranza del genere a cui si accosta, ma che non abbraccia in pieno, sono differenti. Questo dà un'idea distorta del titolo e crea malcontento, con i soliti ignoranti che non avendo nemmeno provato il titolo lo bollano come fregatura, porchelea ludica e quant'altro. Dire la verità interesserebbe una cerchia meno vasta di persone, quelli realmente interessati a titoli del genere, ma ovviamente i responsabili vendite e i loro lacche non sarebbero soddisfatti, e così via. Solita merda ogni volta. Se lo si relaziona al mondo del cinema e alla sua politica, il mondo videoludico è uguale se non peggiore oggigiorno. Comunque sia, questo è il punto più importante. Se cercate un TPS frenetico e adrenalinico dall'inizio alla fine, siete nel posto sbagliato. The Order è diverso. La spettacolarità non viene da esplosioni, azioni esageratamente estreme d'Armageddon o situazioni impossibili. Qui è resa in un altro modo, ma non meno impressionante. C'è un tocco realistico in tutto, a partire dai movimenti del personaggio, e le azioni eseguibili sono realmente a portata d'uomo, e mai sopra le righe. Non che i combattimenti non offrano la giusta dose di spettacolarità e frenesia, ma non di certo come in un Uncharted o nel più recente Tomb Raider. Paragoni del genere, tra l'altro, sono inutili. Punto. Le armi equipaggiabili, tra l'altro, sono sufficientemente variegate, alcune davvero divertenti e spettacolari, e ognuna ha la sua peculiarità. Il sistema di copertura è solido e funzionale, ma non vi rende invincibili. Mentre si è al riparo, oltretutto, la telecamera vi mostra il minimo indispensabile, aggiungendo realismo e immersione nell'azione. L'IA è discreta, con frequenti manovre di accercamento, ma solamente da parte dei nemici più corazzati, e dotati delle armi più dannose, ovviamente. Vi verranno incontro inesorabilmente e ad armi spianate, mentre i compagni forniranno copertura rendendo questi incontri i più intensi durante le sparatorie. Anche se bisogna dire che, una volta presa la mano, spostarsi tra le coperture aggirando i nemici e sparpagliandoli renderà le loro tattiche inutili e poco preoccupanti. Davvero poco preoccupanti. Dopo un po' di pratica, la facilità degli scontri è evidente. I più esperti del genere faranno meglio impostare la difficoltà su difficile. Il nostro protagonista è dotato di numerose animazioni contestuali per gli attacchi corpo a corpo, ognuna con il giusto peso, una tattica rischiosa ma molto soddisfacente, sulla falsa riga del recente Last of Us, ma con più animazioni diversificate. Inoltre, uccidendo i nemici, è possibile caricare un'abilità chiamata Visione Oscura, che ci fa entrare in una sorta di bullet time simile a quello visto in Red Dead Redemption, ma che mira automaticamente i nemici e ne possiamo scegliere quale parte del corpo colpire. Se abusata, rendi gli scontri facili, ma non ne sentirete il bisogno. Fidatevi. Oltre a ciò, si aggiungono alcune fasi stealth ben distinte, in cui siamo obbligati ad agire in quel modo. Un approccio libero allo stealth sarebbe stato più apprezzato, ma il fatto è che i combattimenti sono, come dire, preimpostati. Qui respingi l'orda di nemici, qui elimina l'insilenzio, quasi come se guisse una sceneggiatura ben precisa. Questo è forse il difetto maggiore della componente shooter di The Order. È molto lineare e preimpostata. Rientra nella visione cinematografica del titolo, come un'unica grande sequenza epica, ma a livello di gameplay è abbastanza limitata e superata, ma diverte comunque grazie alla resa delle armi e al realismo delle animazioni. Il combattimento è molto dinamico, a seconda di come decidiamo di giocarlo, però entro i precisi confini della situazione. Non parliamo poi delle fasi in cui combattiamo i licantropi. Per favore! La parte sicuramente meno riuscita di tutto il titolo. Due o tre sequenze in cui, rinchiusi in una stanza di dimensione ridotta, dobbiamo schivare gli assalti dei lupacchiotti per poi spararli e finirli a coltellate, ripetitivo e privo di senso all'inverosimile. La cosa che più mi fa incazzare, però, è come le tematiche di Mezzosangue o Lycan sia stata relegata esclusivamente a queste sequenze. Nessun approfondimento su larga scala o combattimenti dinamici all'aperto. Niente! Sembra una giunta messa lì tanto per. Il bello è che nella trama ha un ruolo alquanto importante, ma nei fatti è quasi nullo. Il level design soffre anche di questa linearità. Non ci sono percorsi alternativi, tranne che in una sezione, e questo ancora si rilega al taglio cinematografico del titolo. Una lama a doppio taglio, indubbiamente. Molti non l'apprezzeranno, ma dipende dall'ottica con cui giochi il titolo. La direzione artistica, però, è notevole e c'è un'ottima varietà di ambientazioni. Tutte vi faranno cadere la mandibola, garantito. Fortunatamente, la trama di questo The Order è più che buona. Niente di rivoluzionario particolarmente originale, eh? Non aspettatevi chissà che cosa. Ma si dipane in modo interessante e si infittisce man mano che proseguiamo, soprattutto nella seconda metà. L'inizio, così come il gioco stesso, è particolarmente lento e questo ha fatto storcere il naso a molti. Ma proseguendo, la situazione diventerà sempre più movimentata e sarete incuriositi di sapere come va a finire. Il ritmo della trama non è mai rallentato, in quanto si tipana durante tutto l'arco dell'avventura. Semmai il gameplay rallenta di ritmo, ma di questo ne ho già parlato. Quindi, basta! The Order è un gioco che sfrutta il gameplay ai fini della trama, sempre e comunque, e questo molti non lo hanno apprezzato, proprio perché vogliono agire in un modo che non si addice a questo titolo, ma ad altri simili. Il protagonista, Galahad, così come i suoi comprimari, sono ben caratterizzati e giocano tutti un ruolo chiave nella storia. Davvero ottimo in tal senso. Il doppiaggio è anch'esso buono. Miracolo! Ma ovviamente l'originale gli fa le scarpe, questo è poco, ma sicuro. La parte più controversa della trama è proprio il finale. Va a gusti, ragazzi. È innegabile come la boss fight finale sia dir poco riduttiva e semplificata, anche se divertente da giocare, eh? E questo mette il finale in sé in una posizione svantaggiata per essere goduto appieno. Non è banale ed è ben interpretato, attenzione, ma troppo frettoloso, sbrigativo e semplificato per rimanere impresso. Alla fine dei crediti ci viene dato un possibile suggerimento per un sequel. Se lo fanno, spero che sappiano presentare meglio queste situazioni gestite in maniera frettata e davvero troppo superficiale. L'ICAN su tutti, eh? E soprattutto che rendono le fasi shooting più dinamiche e variegate, aumentando così, di conseguenza, la longevità del titolo. Infine, la nota che sembra essere la più rilevante finora nella valutazione di questo titolo, la longevità. Senza fretta l'ho completato in circa 6 ore e il gioco costa circa 70 euro. Distinto, viene da dire che non li vale tutti questi soldi. In parte è vero. L'ho detto e ribadisco, se lo prendete nell'ottica giusta, possono anche essere soldi ben spesi. Il lavoro svolto è notevole. Ottenere un prodotto che mantenga la qualità tecnica, che ha di order, sull'arco di tutta l'avventura, con una longevità maggiore, forse non era possibile. Ci sono dei limiti di budget, anche se parliamo di somme enormi per noi comuni mortali, e molta gente non si rende conto del peso che ha sul prodotto finale. 8 volte su 10 il fiasco di un prodotto è dovuto a motivi finanziari. Poco ma sicuro. Quindi basta pretendere senza sapere. Le uniche situazioni in cui ho visto una qualità di questo livello su un gioco single player, simile a questo, e per di più longevo, è stato sempre alla fine di un ciclo di una piattaforma. A parte qualche rarissima eccezione, sono davvero rare se ci pensate bene. Quindi, è un'esperienza breve ma molto intensa, questo è sicuro. Se vi immergete nel mondo imbastito dagli sviluppatori e vi lasciate avvolgere dall'atmosfera sublime che il titolo offre, un viaggio emozionante vi attende, come un grande film epico dove siete il protagonista in tutti i sensi. Se siete un giocatore alla ricerca di uno shooter qualunque, ma ricco di contenuti inerenti al genere, lasciate stare. The Order è stato pensato per essere giocato in un certo modo, è quello soltanto, e in quel modo è molto gratificante. Lo so, è un po' limitativa la cosa, ma è così. Personalmente l'ho apprezzato un casino, ma resto comunque dell'idea che il prezzo sia alto, rapportandolo in generale al panorama videoludico. Bisogna poi tenere presente che tutta la strategia di marketing per il lancio del titolo e quant'altro non ha fatto nient'altro che minare la sua credibilità, e quindi non è giusto andare a colpire il gioco in sé. Bisognerebbe andare a prendere quei manager della minchia e prenderli a sberle. Questo sarebbe la cosa giusta da fare, ma non penalizzare i re di Addon per il lavoro che hanno fatto, perché è davvero notevole. L'ho già detto e lo ripeto. Ma infine, è poi davvero tanto corto? Se lo rapportiamo ad un qualunque Call of Duty o Battlefield di turno, la qualità dell'esperienza IN SINGOLO, mi raccomando, non ha paragoni. Non venitemi a dire il contrario. I due citati si salvano per il multiplayer? Vero forse, ma non dovrebbe essere il multiplayer a salvare un titolo. Questo pensiero in futuro porterà a un'inevitabile regressione della qualità single player in favore del multi. Prendiamo ad esempio il recentemente uscito Evolve. Non esiste una modalità in singolo, solo non è un'evitabile una ripresa dell'arena in multiplayer popolate dai mob. Girateci in giro quanto volete, ma la verità è questa. Altro esempio potrebbe essere Destiny. Campagna in singolo strutturata esattamente come una serie di incontri in multiplayer, ripetitivi oltretutto, trama a dir poco inconsistente, eccetera eccetera, ormai si è detto di tutto e di più di questo gioco. Ecco dove stiamo andando a finire. A qualcuno può anche piacere. The Gustibus, a me no cazzo! Quindi come fai a paragonare le due cose? Dare un voto a uno sulla base dell'altro sarebbe illogico e irresponsabile, che è quello che oggi si fa di più tra l'altro. Non sono qua a fare il paragoni, ci tengo a precisarlo, ma molti lo fanno e senza i presupposti per farlo. Questa è la mia opinione. Non tirate in ballo il discorso multi, perché titoli come The Order non hanno nulla a che fare e non sono pensate per avercene a che fare. Elementare, Watson! Quindi, tirando le somme, se cercate un'esperienza action un po' sperimentale, story-driven, molto particolare, affascinante ed altamente coinvolgente e immersiva, seppur con qualche meccanica troppo semplificata e una durata troppo breve, The Order fa per voi. Se cercate un TPS adrenalinico con una bella grafica, meno incentrato sulla trama che sul gameplay, con una grande varietà d'azione e contenuti, guardate altrove. Se è una questione di soldi, beh, aspettate i saldi e basta lamentarsi. La maggior parte dei giochi ha un prezzo standard e su questo non possiamo farci niente. Triste, ma vero.